ciao ragazzi bentornati a queste video lessons oggi vediamo con voi la unit 12a che si trova pagina 146 e cominciamo il discorso del nostro ultimo argomento che è il present perfect oggi vedrò con voi la formazione di questo tempo verbale e poi una minima differenza tra due participi passati che delle volte in inglese tendono a creare qualche confusione allora la prima cosa da vedere appunto la formazione del present perfect la trovate appunto a pagina 146 nella tabella il present perfect si forma con have oppure has in terza persona singolare più il past participle quindi il participio passato vi ricordo che il participio passato è per i verbi regolari termina in ed mentre invece per gli irregolari dopo vediamo brevemente c'è da studiarlo a memoria perché è quella tabella a pagina 165 che vi ho detto più volte che va studiata a memoria in ritmo ternario cioè praticamente le tre voci che compaiono nei verbi dopo le vediamo meglio allora per quanto riguarda la formazione perciò io dirò ad esempio se devo dire ho lavorato dopo vediamo le traduzioni l'uso tutta la volta prossima I have worked you have worked he she it has worked we have worked you have worked they have worked quindi work è verbo regolare lo sapete anche voi quindi finisce in ed ok quindi sarà tutta coniugata in questa maniera la forma affermativa e in terza persona metto has nella negativa aggiungo il not all'ausiliare have quindi sarà I haven't worked you haven't worked he she it hasn't worked we haven't worked you haven't worked they haven't worked ok e nel caso della interrogativa faccio l'inversion quindi metto davanti l'ausiliare have soggetto e past participle quindi dirò have you worked has it worked for example have we worked have they worked has she worked ok ok quindi basta fare l'inversione come se fosse verbo essere molto semplice e quindi come vi ricorderete dalle regole iniziali quando io dopo devo fare la short answer io ripeterò l'ausiliare che si trova all'inizio della interrogativa quindi logicamente dirò have you worked qual è l'ausiliare have quindi io devo ripeterla nella short answer have quindi have you worked yes I have has she worked yes she has è la stessa cosa nella negativa quindi no I haven't oppure no she hasn't ok quindi questo diciamo è per quanto riguarda la formazione la cosa da ricordare sicuramente è a pagina 165 vi invito andare a vedere la tabella degli irregular e vi ricordo brevemente proprio le tre colonne la prima che è il present oppure va bene l'infinito senza to la seconda è il past simple a noi d'ora in poi per questo tempo verbale ci interessa la terza la terza colonna è il past participle ok quindi la terza colonna è quella che deve essere messa in coda a have oppure has quindi se io devo dire non so io ho mangiato sarà I have eaten terza colonna io ho bevuto I have drunk ok vediamo ancora altre cose ad esempio io ho dormito I have slept ok queste vi consiglierei visto che avete proprio l'audio sopra di andarvi a sentire anche se l'abbiamo fatto delle volte in classe la pronuncia dei tre tempi verbali ok di modo che piano piano dovrebbe entrare un po nella nella testa e far capire anche vediamo meglio della prossima volta che la seconda colonna è il past simple quindi azione chiusa definita eccetera mentre invece da questa volta in poi ci occupiamo della terza colonna una volta guardato questo vi ridirei di riandare a pagina 146 perché oggi la video lesson la volevo concludere oltre che con la formazione del tempo verbale con il 12b l'ultimo pezzettino c'è l'ultimo pezzettino del 12b vedete che c'è la question che chiede been or gone cioè been è il past participle del verbo essere quindi verbo essere lo vedrete poi da là è be was where been ok quindi stato vuol dire stato no mentre invece gone è il participio passato del verbo go che vi ricordo essere go went gone quindi andato qual è il problema vi introduco proprio un minimo accenno all'uso del present perfect per quanto riguarda il participio passato c'è una differenza tra stato e andato in inglese molto più marcata di quella che c'è in italiano quindi quando io ad esempio dico vedete quale frasi che avete sotto no l'ultima nick has been to paris c'è nick è stato a parigi vedete la composizione del verbo has perché terza persona più been che la terza colonna del tempo del verbo irregolare ok quindi è stato a parigi innanzitutto been è seguito da to fissatevelo proprio in testa cioè io sono stato negli stati uniti e i have been to the usa ok quindi è seguito da to anche se non è verbo di movimento in pratica ok altra cosa questo vuol dire che lui c'è è stato ma è già tornato a casa ok quindi esempio qua dicono he visited paris and came back at some time in the past quindi c'è stato punto basta adesso lui sarà non so in italia negli stati uniti da un'altra parte ma non è più a parigi cosa diversa invece se dico nick has gone to paris è andato a parigi vuol dire che he went to paris in the past and he is in paris now he is still there ok o è ancora là oppure he is on his way there cioè è sulla via diciamo del dell'andare là del viaggiare verso là comunque sta di fatto che non è tornato indietro quindi per capire la differenza è been to a place vuol dire ci sono stato e sono a casa have gone to a place vuol dire i am still there ok quindi c'è proprio una differenza tra questi due tempi verbali tra questi due scusate participi passati proprio di significato visto che dopo il tempo verbale per esempio ha delle implicazioni molto molto stringenti per quanto riguarda l'uso e la differenza col pass simple questo lo vedo la prossima volta perché ci sono tante cose da dire intanto vi direi a questo punto di fare gli esercizi a pagina 147 la prima parte sopra eh sì direi solo la prima parte sopra il 12a perché dopo il 12b lo vediamo meglio con tutte le implicazioni la volta prossima ok quindi per oggi è tutto ragazzi io vi mando un grande bacio and really miss you I hope to see you soon bye guys